Il Festival delle Vie dei Tesori ritorna a Caltanissetta per tre weekend dal 16 settembre all'1 ottobre con 19 luoghi, tre esperienze e una passeggiata d'autore. Si potrà salire su uno dei due campanili della cattedrale e si scenderà nella cripta settecentesca di San Domenico. Si potrà visitare il cimitero monumentale scavato nella roccia e si scoprirà una delle due ghigliottine esistenti in Sicilia e la torre di casa del magistrato. Quest'anno partecipa anche la città di San Gataldo con due chiese monumentali, San Francesco d'Assisi con un altare maggiore attribuito a frate Giuseppe da Sambuca e la chiesa del Patriarca San Giuseppe. Si potrà visitare anche la Zolfara Trabonella seguendo il percorso dei minatori. Infine anche una passeggiata d'autore al piccolo borgo rurale di Canicas e Casale fondato a fine settecento dal barone Lanzirotti. Si potrà entrare numerose chiese avvicinando le stanze e le regole delle confraternite a partire da una narrazione coinvolgente tra le varie dei biangardi che prenderanno virtualmente vita dando voce a personaggi noti e ignoti del passato, conti, suore, preti, frati, minatori e vedove che hanno vissuto nella Caltanissetta del 1800. Altri luoghi visitabili saranno la chiesetta di Santa Maria Maddalena con il portale neogotico e la chiesa di Santa Maria degli Angeli con l'ex convento dei frati minori osservanti, l'ex palestra Bilotta nata sotto il fascismo sempre nel quartiere Angeli. Spazio Epitta per quanto riguarda i palazzi nisseni vi sono palazzo Calefati di Canelotti del XVIII secolo, palazzo Benintente che è un tempo ospito Garibaldi, palazzo Lanzirotti che apre eccezionalmente per il festival. Infine palazzo Barile edificato tra il XVIII e il XIX secolo sull'antica casa comunale detta casa del magistrato di cui resta la torre in stile gotico catalano. Nel cortile vi sono le sculture in pietra gialla di Sabucino e di Mario Buscemi, visitabile anche Villa Mazzone trasformata in grandotelle per gli imprenditori dello Zolfo, poi donata alla Curie e trasformata in residenza per anziani. Infine Villa Testa Secca ricca di amore dei signori dello Zolfo. Per partecipare alle Viede Tesori basta acquisire il coupon per l'ingresso con visita guidata sul sito www.leviedetesori.it negli infopoint allestiti durante il festival in città.